Il risultato è sempre 0-0 fra l'Inter e il Genoa, nonostante i tentativi da parte della squadra di casa, ossia dell'Inter, di portarsi in attacco per tentare di sbloccare il risultato. Quando sono passati esattamente 33 minuti e 10 secondi dall'inizio del secondo tempo, linea Napoli. Attenzione qui è lo studio.